Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Napolis 1926, per prima cosa iscrivetevi al canale è gratis. Detto questo, veniamo al dunque, alla ciccia, perché scartiamo l'osso ma prendiamoci la ciccia. Signori, si sta parlando del rinnovo di Quara e quindi fermi tutti, fermate il mondo, voglio scendere, perché sono molto legato a Quara, lo sapete, lo sapete, e quanto sia importante per me questo giocatore e per la prossima stagione, chiunque sia l'allenatore, chiunque sia Casperini, Conte, Italiano, Pioli, secondo me sotto sotto è Pioli, lasciamo stare, speriamo di no, però io ce lo vedrei pure bene Pioli a Napoli, perché lo sapete, ha fatto i grossi miracoli con il Milan, a botto, va lasciando questo. Hashtag del video, rinnovo Quara, questo è l'hashtag, rinnovo Quara, mi raccomando, il tasto mi piace e soprattutto i commenti e nei commenti dovete scrivere hashtag, hashtag, rinnovo Quara, così facciamo bombare bene il video. Allora, si sta parlando in questi giorni del rinnovo di Quara e io quando vedo, a parte già vedo Quara, Schia, Barcellona, già stavo andando in, mi stavo già per suicidare. Allora, tralasciando questo, veniamo a parlare il rinnovo di Quara. Allora, il procuratore di Quara che dovrebbe essere a Napoli in questi giorni, sperando che questo benedetto 4 maggio, maggio sì, 4 maggio scusatemi, possa veramente parlare di un rinnovo, di qualcosa, perché io me le sono, me le ricordo tutte, eh. Il 4 maggio sarà un annuncio importantissimo per il Napoli. Volete sapere quale sarà l'annuncio? Ve lo dico io. Ma, sapete, visto che non andiamo in Champions League, ho deciso di fare la serie TV sullo scudetto del Napoli, così che tutti se la possono vedere. Questo sarà, questo sarà, questo sarà il grande annuncio di Aurelio dell'Aurelio. Preparatevi, poi me ne lo direte, poi me lo direte. Questo sarà il grande annuncio. Diciamo immagini, diciamo immagini, nessun allenatore, nessun rinnovo. Sarà questo, che lui si presenta e faremo la serie TV sullo scudetto dell'anno scorso. Vabbè, tralasciando questo, lasciamo stare. Allora, allora, rinnovo di Quara, perché la gente si dovrebbe trovare a Navoli in questi giorni per parlare proprio del rinnovo del giocatore. Ma attenzione, perché, secondo me, se tu non riesci a vendere Victor Rosyman a quei soldi, a quella famosa clausola di 130 milioni, che, secondo me, solo un folle può spendere 130 milioni per Rosyman, Quara potrebbe essere, potrebbe essere uno, guarda come, come mi dispiace dirlo, potrebbe essere uno dei sacrificabili per la prossima stagione. Perché vi dico questo? Perché il procuratore di Quara ha intenzione di chiedere al Napoli 5 milioni più bonus, va bene? Quindi, non penso, non so poi a quanto si arrivi con questi bonus, voglio... Allora, la cosa che a me sorprende veramente non è il fatto di chiedere 5 milioni, che sono giustissimi, che sono giustissimi, e tu già dovevi guadagnare, caro Quara, perché sei il giocatore più forte della Serie A, sei il giocatore più tecnico della Serie A, sei il giocatore più forte di questa squadra di raccattati di casa che quest'anno si fanno le pugnette in mezzo al campo. E vedo un rinnovo di Victor Rosimena a 10 milioni, vedo un rinnovo di Politano, un rinnovo di Mario Rui, un rinnovo di tutti i giocatori, tranne che del giocatore più forte della squadra. Allora io li mi dico, allora veramente lo stai facendo apposta, vuoi farlo andare via? Perché a me mi sembra molto la situazione Coulibaly-Napoli. E io gli ho offerto il contratto, ma ha preferito l'area, dove andò? All'area inglese, andò a Chelsea, dove andò a Chelsea, mi sembra. Eh, ha preferito, non ha preferito il mare, ha preferito andare in Inghilterra, e sappiamo tutti, va diù che De Laurentiis su queste cose prova sempre a metterci il dito nella piaga e rigirarlo con il sale. Caro Aurelio, io una cosa te la vorrei dire, se Quara ti chiede questi 5 milioni a stagione, tu glieli devi dare, tu glieli devi dare, perché questo è il giocatore più forte che tu hai. E ripeto, e ripeto, io spero un giorno che Quara, vado contro il mio interesse, naturalmente, Quara possa andare in una squadra dove tutti gli anni può lottare, per lo scudetto e per la Champions League. Sono sincero, Aurelio, perché talmente che amo questo ragazzo, talmente che mi ha fatto vivere delle emozioni forti la scorsa stagione, ma pure quest'anno in una stagione di merda. E io mi ricordo bene quel Napoli-Verona, quando l'ha messo al 7, che io ero lì allo stadio per la prima volta con Diego, e lui l'ha messo lì sotto al 7 all'incrocio dei pari. Meglio di che stiamo parlando, alta classe, alta classe. E quindi io, caro Aurelio, sto progetto, se vuoi farlo partire, lo devi far partire proprio con Quara. Perché se tu il progetto lo fai partire senza Quara, il nuovo allenatore che poi verrà la prossima stagione, continuo a ribadire che secondo me Pioli sotto sotto, sta a vedere come va a finire, perché è uno che sta zitto, è uno che... e quindi secondo me è lui. Però stiamo zitti. Allora, io ho paura, ho paura naturalmente di quello che potrà accadere in questo finale di stagione. Perché se il Barcellona ti viene a Napoli, e lo sappiamo tutti che prima o poi proverà l'affondo il Barcellona che ho quara, tu glielo vendi, io ne sono proprio con me. Ma tu non farei... Tu farei la finta di... Ah, io gli ho offerto 5 milioni a stagione, però è voluto andare a Barcellona guadagnare 4,5, come ha voluto Zelischi, che io gli ho offerto 4,5 milioni, ma è voluto andare via, è voluto andare a Milano. Io voglio proprio vedere questa offerta di 4,5 milioni. La voglio proprio, proprio vedere. Allora, come detto, se tu non riesci a vendere Victor Rosimena, il primo da vendere, secondo me, è Quara. Il primo che lui prova a piazzare, perché Quara, secondo me, lo piazzi proprio un fulmine. Proprio, pum! Quara è sul mercato, chi lo vuole? Domani c'hai quelli che ti vengono a offrire 80 milioni per Quara, ma io ne sono convinto al 100%, al 100%. Addirittura si parla del rinnovo che Quara vorrebbe mettere questa clausola da 100 milioni. 100 milioni, ragazzi, non sono tantissimi per un giocatore come Quara, naturalmente. Quindi, io ho questa paura che faccia il rinnovo, perché poi gli farà il rinnovo e mi auguro, vado a prendere questi benedetti 4,5-5 milioni a stagione, perché se li merita tutti, e poi, l'anno dopo, te lo vendi stile Osimena. Tanto odio questo è. Si resta sempre lì, ragazzi. Noi parliamo di allenatori, di giocatori, ma fino a quando non ci sarà un progetto serio sotto questa squadra, secondo me può arrivare chi vi pare, ma non ritornerà mai a vincere, perché se tu non fai un progetto serio, un progetto mirato a vincere, ma non ti dico nel breve tempo, nel giro di due anni, nel giro di cinque anni, Napoli sarà sempre un porto, sarà sempre un'opportunità per i giocatori, perché è sempre una grande vetrina a Napoli. Ecco, caro Aleglio, prima dei rinnovi, prima di tutto, vabbò, iniziamo a progettare il futuro, perché se non progettiamo il futuro, ciao. Detto questo, ricordatevi l'hashtag rinnovoqubara, sempre e comunque forza Napoli. Ciao a tutti.